Ciao a tutti e bentrovati. La settimana in tv oggi parla con il Vescovo Monsignor Giusti della situazione a Livorno e poi parleremo della Scuola dei Mistieri e ancora del primo processo matrimoniale breve conclusosi al Tribunale della Diocesi. Monsignor, la primavera è arrivata o forse in città è tornato il freddo e ancora tentiamo a vedere le rondini? Le rondini ne sto vedendo poche e infatti i venti del sud non sono ancora arrivati e questi giorni di freddo ci fanno capire che l'inverno è finito ma l'estate ancora lontana e questa immagine potrebbe coglia anche la situazione di Livorno. Noi vediamo la situazione dei grandi mulini che ci fa pensare a un grande freddo dell'occupazione, ancora licenziamenti, ancora tensioni, ancora problemi. Dall'altra parte sembra che la gara dei bacini si stia sbloccando però poi dopo vediamo la situazione tragica di tante famiglie in immobili occupati, in situazioni anche incresciose. Dall'altra parte c'è tanti appartamenti vuoti, è una questione come ho già ridetto di cuore, di capacità fra l'istituzione, fra le persone buona volontà di creare una sinergia per arrivare a risolvere i problemi della grande mulini, a risolvere il problema dei bacini con un'intesa fra tutti gli attori per portare lavoro, quei 50, 100 posti forse più che potrebbero ridare fiata a tanti e così pure a un accordo per poter dare una casa ai tanti che non l'hanno e portare giustizia anche all'interno delle case popolari affinché ci stiano nelle case popolari che ha diritto a starci e gli altri che possono permettersi altro pensino ad altro. Penso che ci sia cuore e giustizia a portare avanti. La scuola dei mestieri rappresenta ormai una realtà molto significativa anche per il mondo del lavoro. Simone Picchi, coordinatore della Caritas, ci spiega cos'è. La scuola dei mestieri è un luogo di incontro, è un luogo per la promozione della persona. Utilizziamo il mestiere come ad esempio può essere la riparazione di una bicicletta, come può essere l'apprendimento delle tecniche di cucina per veicolare le capacità che ogni persona ha dentro, poterle tirare fuori e riuscire a utilizzarle per rimettersi in gioco nel mondo del lavoro ad esempio. Ci sono già dei casi di persone che magari hanno frequentato la scuola e poi sono riusciti in qualche modo a reinserirsi nel mondo del lavoro? Sì, ci sono stati dei casi dove alcune persone sono riuscite a mettere a frutto quello che hanno imparato nel ritrovare un nuovo lavoro e questo ci ha dato molta soddisfazione anche perché sono venuti a comunicarci, a ringraziarci per l'esperienza che hanno avuto e per le capacità che hanno appreso. Quali sono i corsi che offre la scuola dei mestieri? In questi tre anni si sono alternati diversi corsi, alcuni a un percorso che hanno continuato dall'inizio dell'apertura fino ad oggi, ad esempio come il corso di cucina e il corso di riparazione di biciclette, la nostra ciclofficina. A questi si sono alternati corsi di informatica, di sartoria, di fotografia e di falegnameria. In totale in questi tre anni quasi 240 persone hanno partecipato a questi corsi di formazione e non c'è una pari distribuzione tra italiani e stranieri, uomini e donne. Ultimamente si sta vedendo sempre di più avvicinarsi ragazzi molto giovani, ad esempio nell'ultimo ciclo di corsi la metà delle persone che hanno fatto domanda ha tra i 20 e i 35 anni, quindi veramente i più giovani, che non hanno ancora avuto la possibilità di affacciarsi nel mondo del lavoro. Simone, ma chi sono gli insegnanti di questi corsi? I corsi sono tenuti da dei professionisti del settore che mettono a disposizione il loro tempo libero ma soprattutto la loro voglia di trasmettere la propria passione alle altre persone e questa è veramente la cosa più bella perché quando parlo con loro e vedo proprio che credono in questo progetto, alcuni ci sostengono dall'inizio del 2014 e questo sudalizio ci porta ad avere sempre degli ottimi risultati, dopo ogni corso siamo soddisfatti di quello che è stato fatto. A Pasqua il Vescovo ha incontrato i detenuti del carcere. Come San Paolo convertiamoci e cerchiamo le cose di lassù agendo soltanto con bontà, carità, amore senza fare del mare al nessuno, pensando bene al prossimo e con un cuore puro. Sono queste le parole di Monsignor Giusti in occasione della Messa di Pasqua al Carcere delle Sugheri, a cui ha partecipato un numeroso gruppo di carcerati. Un momento di preghiera e raccoglimento che ha visto anche la testimonianza di un ergastolano che ha voluto, tramite una lettera, condividere il percorso di fede che sta facendo. Al termine della celebrazione, sia ai detenuti che alle guardie penitenziari, sono state distribuite delle bottigliette di acqua benedetta la notte di Pasqua, in modo che ogni cella possa ripensare al battesimo e alla misericordia di Cristo. Nei prossimi giorni avrà inizio la nuova campagna per l'Otto per Mille. Partirà il 23 aprile la nuova campagna dell'Otto per Mille della Conferenza Episcopale Italiana, di cui anche la Scuola dei Mestieri di Livorno è stata tra le protagoniste degli spot pubblicitari. Nel 2016 l'Otto per Mille ha permesso alla Chiesa Livornese di realizzare diversi progetti, tra cui il restauro di alcune chiese, la costruzione di altre e di interventi in ambito sociale e di carità. Tutto questo è stato possibile grazie alle migliaia di firme sulle dichiarazioni dei redditi, firme che non costano niente ma che possono cambiare e soprattutto aiutare molte persone. Al Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Livorno si è concluso il primo processo breve matrimoniale. A seguito delle nuove norme promulgate da Papa Francesco riguardanti le procedure di nullità matrimoniale, i Vescovi della Toscana hanno deciso che lo svolgimento del processo breve sia interamente celebrato nei Tribunali diocesani. Per questo anche i parroci potranno contribuire a raccogliere elementi utili per verificare che ci siano i presupposti per istituire procedimenti brevi per le cause di nullità. Per spiegare queste modalità si svolgerà un incontro il prossimo martedì 9 maggio alle 9.30 in Vescovado e alle 21.15 alla parrocchia di Santa Lucia. Continua la Peregrinazio Marie in Diocesi. Il 2007 è l'anno dedicato a Maria, l'anno in cui si ricordano i 70 anni dalla proclamazione di Maria di Montenero a patrona della Toscana ed in questo anniversario le parrocchie della Diocesi di Livorno, secondo un calendario prestabilito, accolgono il quadro della Vergine delle Grazie e del Santuario, così come avvenne 70 anni fa. Dopo la visita alla Chiesa di San Ferdinando e alla Chiesa della Sacra Famiglia, il quadro della Vergine sarà accolto dal 29 aprile al 5 maggio dalla parrocchia del Sacro Cuore ai Salesiani. Vi segnaliamo adesso i prossimi appuntamenti nella Diocesi di Livorno per la prossima settimana. Lunedì 24 aprile alle 9.30 l'incontro con il Costituendo Gruppo Africa in Vescovado. Sabato 29 aprile alle 18.00 la Santa Messa e le Cresime dei Giovani e degli Adulti del Quinto Vicariato alla parrocchia di Santa Croce a Rosignano Solvè. Domenica 30 aprile alle 11.00 la Santa Messa e le Cresime degli Adulti alla parrocchia di Santa Teresa di Calcutta al Borgo di Magrignano. Lunedì 1 maggio alle 11.00 al Borgo di Magrignano e sarà celebrata la Santa Messa per tutti i lavoratori al cantiere della nuova Chiesa. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana e non perdetevi le altre notizie sulla settimana livorno.it. Ciao! Ciao!